Le ragazze di Andrea sono tutte promettenti, le ragazze di Andrea hanno già da parte intero, hanno gli occhi belli, coloro fondi di bottiglie verti, come mille primavere del pittore Botticelli. E lasciano messaggi sotto a un foglio scritto di amore. Le ragazze di Andrea non sono avventurieri, le ragazze di Andrea sono belle principesse, sono tutte innamorate del suo modo di guardare, sanno attendere di sabato l'intera settimana. E lasciano messaggi sopra a un foglio scritto di amore, anche sopra il parabrezza della macchina di Andrea. Le ragazze di Andrea sono frango leggera, sanno che da niente poco avranno un po' e sono ordente. Questo non le spaventa perché sono di ferro, le ragazze di Andrea sanno crescere bene. Si diventa una storia dentro i sogni di Andrea. Le ragazze di Andrea sono belle principesse, sono tutte innamorate del suo modo di guardare, sanno attendere di sabato l'intera settimana. Lasciano messaggi sopra a un foglio scritto di amore, anche sopra il parabrezza della macchina di Andrea. Le ragazze di Andrea sono frango leggera, sanno che da niente poco avranno un po' e sono ordente. Questo non le spaventa perché sono di ferro, le ragazze di Andrea sanno crescere bene. Si diventa una storia dentro i sogni di Andrea. Questo non le spaventa perché sono di ferro, le ragazze di Andrea sanno crescere bene. Si diventa una storia dentro i sogni di Andrea. Da i sogni di Andrea Grazie a tutti. Grazie a tutti.